Vittoria Lucia Ferragni indossa con entusiasmo un adorabile vestitino rosa a tema Popatrol, regalatole da sua madre Chiara. Il vestito è decorato con Sky e il personaggio della serie animata, oltre al vestitino rosa e alla maschera, ha anche indossato delle ali, sembra aver portato un sorriso radiante sul volto di Vittoria, che lo indossa con gioia, questa piccola fan dei Popatrol sembra essere pronta per avventure straordinarie indossando il costume di Sky e divertendosi al massimo. La mamma Chi te l'ha comprato? La mamma Ma è bellissimo, ma cos'è, un Popatrol? Sì E che Popatrol è? Sky E' Sky? Wow, e quindi adesso voli come Sky? Ma che bello, amore Ti manca la maschera? Sì, ma che bello il vestito Che bello il vestito Ma è tutto normale Eh? Ok Cosa, amore? Quello lì è il papà Sì E' il papà da giovane Perché? Eh perché ero giovane, amore, adesso sono più vecchio, ho capelli bianchi Perché? Perché sono invecchiato Ma ora, no Non ho capelli bianchi? Ora no No, grazie amore mio Ora no No, secondo te sono uguale a quando ero giovane? No No, sono più vecchio? Sì Sì Sono vecchio Sono vecchio Ma la mamma no La mamma no, non è vecchia la mamma Tu vecchio Io sono vecchio Ma non è... Eri tu, amore? Sì Eri tu, patata? Sì Sky Un po' più giù Esatto Un po' più giù, amore Eri tu, amore